Ciao a tutti, ciao anche a Rosenberry che oggi è qui con noi per inchiostrare, disegnare, colorare, qual è il progetto al momento? Colorare, ok. Mi senti bene ora? Ok adesso ti sento bene sì. Ok no dicevo no colorare soltanto perché in realtà ho già messo un po' di flat per per velocizzare insomma perché è un po' noioso altrimenti di star lì a riempire le parti quindi è per colorare più che altro le ombreggiature, le luci, per dare forma a questi colori un po' piatti adesso. Quindi l'idea è di fare una cosa abbastanza dipinta visto che vedo che manca la line art, comunque è molto soft come line art. Sì perché in realtà ultimamente sto provando a sperimentare una tipologia di colorazione che appunto ricorda più un dipinto perché inizialmente la line art devo farla per forza per capire bene o male dove è che devo andare a colorare, però poi cerco di schiarirla sempre di più e di sostituirla proprio con i colori e quindi di eliminarla alla fine. Cioè almeno è un esperimento di colorazione che sto provando a fare da un po' di tempo, da qualche settimana. Bello bello, fa sempre bene sperimentare. Eh sì, specialmente ora che ce n'è il tempo quindi se ne approfitta e si fanno sperimentazioni e prove. Ok, allora ricordo di nuovo a tutti i microfoni devono restare spenti, se avete una domanda scrivete nella chat su tutti, non mandate messaggi privati a me o Rosenberry perché poi dopo diventa difficile starci dietro proprio a livello temporale. Quindi voi scrivete su tutti, non c'è da vergognarsi di fare una domanda. Detto questo, c'è Dotto che ti saluta, dice ciao Rosen, non ti sentivo dall'ultima volta in Sardegna, che bello. Abbiamo anche un fan. Ciao! Oddio, cioè quando? Non ho capito, ci manco da quattro anni in Sardegna. Non ho capito, dov'è? Scusami. Mi puoi, vabbè, già che sei qui in questa live, potresti dirmi dov'è che ci siamo incontrati in Sardegna? Vogliamo i dettagli, Dotto, vogliamo i dettagli. Non mi ricordo, perché non ho mai fatto una fiera del fumetto in Sardegna, credo che ci sia uno. Rosenberry non crescono sugli alberi, dobbiamo sapere come si incontrano. Non ho capito. Dice esattamente, ero amico di Cotton Do, credo fosse quello il vecchio nome. Ah, aspetta, 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 per caso hai fatto il cosplay di Ryuko, di Kill la Kill? Proprio blessed, front test, proprio. Mia, stiamo parlando di... avevo 19 anni, forse. No, sì, vabbè. Cina! Quattro, cinque anni fa erano... Oh, mia, che memoria! Eh, vabbè. Vabbè, ci farò sapere. Che saspetta. Ah, sì, 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 mi ricordo. Ho collegato wifi. Mi ricordo, mi ricordo di te. Sì, mi ricordo perfettamente di te. Sì, stavamo a quella specie di raduno cosplay. Sì, 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 va bene, ok, è risolto il mistero, ci siamo ricordati. Cioè, mi sono ricordata. Allora, prima che mi saltasse internet ti stavo chiedendo, questo personaggio è un tuo personaggio o è fan art? No, in realtà non è un personaggio mio né una fan art, nel senso che semplicemente volevo fare un'illustrazione e ho disegnato una ragazza con i capelli azzurri. Sì, sì, anche a me ricorda molto Miku, però non avevo intenzione di disegnare Miku. Vabbè che credo che ormai le code azzurre siano iconiche, cioè. Sì, ormai si fanno le code azzurre. Sì, diciamo che, sì, in effetti somiglia. Sì, va bene, allora le faremo poi i codini a forma di rombo, fucsia, mi sa, sì, sono fucsia. Ormai le hanno fatto talmente tante versioni, ognuno fa un po' come gli pare. L'importante è il codino azzurro, vero? Vabbè sì, ok, allora diciamo che lei sarà Miku, perché non possiamo chiamarla Miku. Azzone Miku. Esatto, credo, un personaggio originalissimo. Personaggio originalissimo, non copiare. Adesso gli facciamo. Un po' di parte grossi così. Bye Rosenberry. Sì, boccaloid. Bye Rosenberry, non copiare. Sì, 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 un boccaloid che è, no, per non chiamarlo vocaloid. Un, come potremmo chiamare un, come potremmo chiamare una versione tipo tarocca dei vocaloid? Io avevo pensato boccaloid, quella B. Bocaloid. Che è la B e la B. La voce loid. I cantaloid, suggerisce Marco. Sì, i cantaloid, perché è così. I cantaloid è perfetto. Sì, va benissimo, ha giudicato tanto. Non lo riconoscerà mai nessuno, a chi vuoi che se ne accorghi, è diversissimo. No, vabbè, vabbè. I pennelli stai usando per colorare? Allora, in realtà uso alcuni pennelli per cose diverse. Per esempio, adesso che devo, in realtà prima di passare alle ombreggiature e tutto quanto, metto un po' di sfumature. E per fare questo uso il semplicissimo airbrush, il semplice e semplice questo. E poi, per le ombre e tutto quanto, uso un pennello watercolour, questo, transparent watercolour, oppure dense watercolour. Prende poi da che effetto devo dare al momento. E poi, invece, per dare l'effetto proprio pennello dipinto che dicevi tu all'inizio, uso i gouache. Ne ho scaricati questi quattro. E vabbè, uso questo qua classico e poi il blender che è molto buono per sfumare, per lasciare comunque quell'effetto un po' pennello, un po' grezzo. Che mi piace, che mi ricorda un po' il tradizionale, che, diciamo, non riesco mai a staccarmi al 100% dal tradizionale. Sì, perché poi a te ho visto, comunque, siccome seguendoti su Instagram, eccetera, ho visto, ti piace molto il tradizionale, l'acquerello. Sì, assolutamente. Diciamo che gli acquerelli sono il mio strumento preferito di disegno, ecco. Matite, acquerelli, quindi anche quando puoi disegno in digitale cerco sempre di mantenerli un po'. Insomma, mi piace che sembri comunque fatto un po' in tradizionale, ecco. Anche a volte, addirittura, diciamo, coloro direttamente, generalmente, coloro direttamente sulla lineart a matita, perché non mi è mai piaciuto disegnare al computer. Anche se da un po' ormai mi sto convertendo per forza di cose che non ho tempo per fare tutto a mano, quindi diciamo che ti velocizza molto il disegno al computer. E quindi, oddio, mi sono persa che stavo dicendo. Niente, niente. Si capisce il sentimento. Il tradizionale, ovviamente, è il grande amore, però poi quando subentra il lavoro, a un certo punto tocca piegarsi al digitale, vero? Eh sì, questo dicevo appunto che io a volte disegno un tradizionale e lo coloro in digitale e molto spesso magari le persone fanno anche fatica a capire che è digitale, perché mantenendo la matita tradizionale a volte non si capisce che in effetti la colorazione è stata fatta al computer. Alla fine la maggior parte delle persone, quando disegnano in digitale, cercano di emulare il più possibile il tradizionale, mentre invece gli artisti tradizionali cercano di emulare il più possibile il digitale. Diventa, diciamo, la parte divertente, mi sa. Sì. Abbiamo un po' di Mattei, di Mattei, di domande. Stavo dicendo, leggendo il nome di Matteo. Un po' di Mattei, sì. Non ce la posso fare oggi, raga. Domanda ci chiede. Matteo chiede, per la pelle è una palenta o vai a sentimento? No, allora diciamo che ho un colore che io uso sempre, che è questo. Non so perché l'ho scelto una volta nella vita e da quel giorno me lo porto dietro qualsiasi cosa che faccio. Alla pelle metto sempre questo e poi all'occorrenza lo modifico. Invece per quanto riguarda le sfumature, le ombre, il blush, tutte queste cose sempre della pelle, quelle le faccio a sentimento, in base a come mi sembra che ci stiano meglio in una determinata illustrazione invece che in un'altra. Quindi un po' è un po', diciamo. Un po' è un po'. Elena chiede, ma secondo voi per fare manga si possono usare app diverse da Clip Studio Paint? Per me sì, dipende un po' uno da come si trova, perché per esempio io... Mi sa che c'è un programma che si chiama Paint Tool Sai, credo che lo usino parecchie persone, però io non ci sono mai trovata. Va bene, non mi piace come programma. C'è gente che usa benissimo Photoshop e riesce a fare cose straordinarie. Io non riesco a fare... Cioè Photoshop io riesco a usarlo solamente per aggiungere dei dettagli, tipo molto spesso. Mi piace mettere pattern nelle illustrazioni, nei vestiti, nelle cose. Quindi per i dettagli. Però non so come, ma c'è gente che ci fa proprio i manga su Photoshop. Vabbè, secondo me è tutta questione di abitudini, di abitudine. C'è appunto chi usa magari Photoshop, chi usa Bo, Medibang, qualsiasi cosa. Alla fine se c'hai una scansione di un retino lo puoi applicare in qualsiasi programma. Diciamo che Clip Studio è il più diffuso perché è il più comodo. È il più comodo, è il fatto apposta per fare manga. E quindi diciamo si sente la differenza. Tra l'altro, per chi non l'ha notato, oggi abbiamo lanciato proprio oggi i corsi online. Tra cui il corso di disegnare manga con Clip Studio. Quindi se vuoi scoprire... Oh che bello! Quindi se vuoi scoprire il meraviglioso mondo di Clip Studio... C'è Look a Manga School. E allora... Paolo che dice c'è anche un programma che si chiama Carta e Penna, ecco. Beh sì, è anche... Anche per le parole, onestamente. È bello anche il tradizionale, soprattutto... Soprattutto parare prima con il tradizionale e poi dopo passare alle cose in digitale. Sì, è vero. C'è il Cizu che chiede, farai mai dei tutorial sugli acquerelli? Io ho quelli a tubetti e ogni volta che ci provo viene un casino e non riesco a dare lo stesso effetto acquerelloso che viene a te. Allora, come tutorial sugli acquerelli, io in realtà ne ho fatto già uno e l'ho caricato su YouTube. Però se tu intendi proprio tubetti, no, non l'ho mai fatto quello. Quindi potrei farlo in futuro, grazie per il suggerimento. È in realtà molto simile all'utilizzo delle... Diciamo di quelli... Come si chiamano quelli nei quadratini? Querelli? Ah, gli acquerelli... Oddio, come si chiamano? Adesso abbiamo tutti e due un vuoto di una maria. Vabbè, non quelli nei tubetti, insomma, per capirci. C'erano i secchi, insomma, quelli... Quelli, la differenza... Ma c'ha proprio un nome, c'ha proprio un nome. Mi sa che in inglese si chiamano... Godet, panet... Però si chiamano Godet. In italiano non lo so, beh, questo è un problema grave. Molte cose a volte capita che magari so come si dicono in un'altra lingua, ma non nella mia. È grave, è brutto, però non mi ricordo. Comunque, la differenza... Insomma, esiste un... Esiste un tuo tutorial? Sì, sì, su quelli semplici, diciamo, quelli secchi, ecco. Su quelli si esiste. È un po' vecchio, probabilmente, insomma, andrebbe un po' rifatto, aggiornato. L'ho fatto forse un anno fa, credo due anni fa. È un pochino vecchietto, quindi, insomma... Però esiste, quindi... Diciamo, un po' essere... Ci sono anche tanti, tanti speedpaint tuoi su IGTV, dove appunto usi gli acquerelli. Ah, sì, sì, quelli ci sono. Però mi sa che quelli in tubetto non li ho mai usati in un video, però ho usato i gouache in due forse video. E quelli sono molto simili, perché continuano ad avere quella consistenza, diciamo, gelatinosa dell'intubetto. Quindi la differenza sta nel fatto che è molto più denso quello, quindi bisogna sapere quanta acqua usare per, diciamo, per avere un bel effetto. Diciamo, si può usare più o meno acqua, se vuoi averlo più o meno intenso il colore, più effetto proprio tenue, acquerello, oppure più effetto acrilico. Dipende da che cosa si vuole, diciamo, cosa si vuole ottenere alla fine con ogni, questo più o meno, credo, con ogni materiale da disegno. Dipende dall'utilizzo che ne vuoi fare. Quindi, insomma, come ormai è il solito motto di Luca Mangadro, pratica e osservazione. Sì, guardando tanti video su YouTube si imparano molte cose. Soprattutto, secondo me, non c'è da pensare che si sprechino i materiali se li usi. I materiali sono fatti per essere usati e anche se magari sono materiali pregiati che voi, ai quali tieni particolarmente, è giusto che siano usati. Non esiste un livello magico dove sarò bravo abbastanza ad utilizzare il materiale X. No, perché se poi non lo usi mai, come fai a diventare bravo abbastanza ad usarlo? Magari si può partire da materiali non costosissimi. Non so, tipo, per esempio, molto banale, la tavoletta grafica super costosa e meglio di quella più economica. Per iniziare, credo che si riferisca anche un po' a questo il tuo discorso. Cioè, nel senso, si può collegare a questa cosa? Sì, ovviamente non si va appunto a comprare come prima tavoletta la Waco, la Sintiq da 40 pollici. Però, comunque sia, appunto, i materiali non sono sprecati se sai che lo vuoi fare. Sì, secondo me il materiale ti serve per fare esperienza. È un po' come quando vai a lavorare da qualche parte e ti dicono, devi avere esperienza per lavorare. Però per fare esperienza devi lavorare, quindi come fai a diventare bravo a usare un materiale da disegno che aspetti di essere bravo per poterlo usare? Sì, infatti. Guardo un po' di domande. Milman chiede, i pennelli che stai usando sono al 100% di opacità? Allora, questo sì. Perché poi c'hanno anche i loro settaggi, i preset. Sì, sì, io a volte li lascio come sono, altre volte li cambio. Questo credo di sì, non vedo qua, non c'è opacità. Però penso che sì. Perché c'hanno amount of paint, density of paint, che è quasi opacità, però non del tutto. È un settaggio loro, no? Sì, e questo mi sa che non l'ho mai toccato questo qua, quindi dovrebbe essere quello di default. Ma comunque sia, alla fine si può sempre sperimentare. Io l'ho lasciato così perché mi piace che si può, cioè si sfuma meglio se non è troppo denso, altrimenti non riesco magari a dare gli effetti che vorrei. Invece gli acquarelli li devo usarli. Sì, gli acquarelli li devo usarli al 100% questo qua perché altrimenti non mi si vede. È già trasparente di suo, quindi se lo uso pure... Si chiama già di suo trasparente watercolour. È molto molto tenue, quindi se riduco pure quella poi non... Non si vedrà più niente. Ah già, per chi non ti segue già, ricordo il tuo Rosenberry su Instagram. Così ti possono trovare, possono vedere i tuoi spillpaint con gli acquarelli. I acquarelli, sì, 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 grazie. Tante cose belle. Grazie. C'è tipo un sacchissimo di follower su Instagram. Da quanti anni è che ci lavori con Instagram? Non è tanto. Dunque, diciamo che quando ho incontrato il ragazzo che ha scritto prima in chat ce l'avevo già Instagram da un po', quindi... Quindi ancora prima, credo, un cinque anni forse. Sicuramente dopo Facebook l'ho fatto perché inizialmente non è che mi sembrasse... Non si sa quanto, cioè io sono nata, cioè la mia pagina, il mio profilo di disegno, ecco, è nato su Facebook inizialmente nel 2014. Poi ho visto che molte persone stavano iniziando ad usare Instagram e all'epoca non era ancora così conosciuto come adesso, cioè non l'avevano tutti, non era molto gettonato come social network. Però poi mi sembra nel 2016, forse o 2015, forse 2015, mi sono iscritta anche lì per condividere i disegni e per un bel po' l'avevo anche abbastanza abbandonato, trascurato, perché non... Perché avevo... Siccome ero partita su Facebook, avevo anche più seguito su Facebook, quindi insomma Instagram era diventato un secondario, ci mettevo anche cose mie personali, non era dedicato proprio al disegno. Poi ho iniziato a prenderlo un po' più seriamente negli ultimi due o tre anni e ho iniziato a lavorarci di più. Ed è al momento quello che utilizzo maggiormente, perché ormai, almeno per me, Facebook sembra un pochino stato, quindi ormai mi dimentico proprio di postare su Facebook. Sì, anch'io, tipo, ogni tanto ci si ricorda di aprire la spunta, condividi su Facebook quando posti su Instagram, ma solo quello. Ah, perché ce l'hai collegato, altrimenti neanche... E anche quello, altrimenti... No, io non li ho mai collegati perché... Leggiamo perché inizialmente non volevo passare account business, account creator, perché c'era tutta la storia, e se passi poi la visibilità diminuisce, però alla fine mi sono arresa, sono passata lo stesso. Però non ho mai collegato le due pagine, non penso che lo farò ormai, tanto uso più, quindi va bene così. Quindi aspetta, il tuo profilo è ancora profilo personale su Instagram? No, fino a qualche mese fa lo era però, perché non ho mai voluto... In realtà cambia poco, cioè cambia semplicemente il fatto che riesci a vedere le statistiche dei tuoi post, cosa che a me importa relativamente perché... Non è che ci faccio tantissimo con le statistiche, sì certo ti serve per capire quale post piace di più, quale meno, però alla fine mi piace e li puoi vedere lo stesso anche... Da un punto di vista proprio di organizzazione della pagina, ecco. No, alla fine l'ho fatto perché ci sono vari vantaggi, tra cui si può utilizzare lo swipe up nelle storie, o comunque altre cose del genere, adesso non è che... Adesso non mi ricordo cos'altro c'è di diverso con il profilo creator, però non è che cambia tantissimo. Delle insights in più ti fanno vedere un po' di grafici, quelle cosine lì, insomma, credo. Sì, le statistiche alla fine sono quelle, c'è nient'altro, ah e poi c'è la suddivisione dei messaggi in generale, il principale. Non lo devo dire. Io però mi perdo, magari metto un messaggio da una parte e non lo trovo mai più perché stava nell'altra cartella, va bene, non fa niente. Comunque, sì, avevo sempre paura che l'algoritmo di Instagram fosse un pochino contrario, nel senso che Instagram è fatto per gli amici, quindi se vede che una persona è una persona come te, magari ti fa vedere maggiormente i suoi post. Se vede che una persona è un'azienda, magari te li oscura. Sganci e vuole anche che magari pensa che la persona si scoccia di vedere sempre post di aziende e preferisce persone umane, come posso dire, cioè nel senso non aziende, brand, marchi. Però credo sia diverso con account creator perché l'altro era business e basta, quindi magari la distensione la fa su quello e non sul creator, anche se è tutto una cosa che uno si immagina. Adesso si è ricambiato l'algoritmo, ogni settimana si cambiano le carte in tavola e c'è da ripartire da zero, almeno a livello proprio trimestrale c'è da ripartire da zero con le insights praticamente. Cioè? Tipo magari per qualche mese ti pompa i video e allora devi capire che sta pompando i video e allora mettere i video, poi dopo smette di pompare i video ti pompa le storie, allora devi stare lì a fare le storie per avere due scatole. Cambio in continuazione. Scusa, mi è apparsa una scritta, diceva Giada sta condividendo, sta registrando lo schermo, è la cosa di prima, giusto? Perché ho fatto consenti e non ho capito che cosa ho fatto. Sì, probabilmente c'è qualcuno che sta spippolando, comunque non dovrebbero esserci problemi. C'è scritto l'utente e Giada posso non notare, non lo so, vabbè, vabbè se è normale, ok. Ma comunque non ci dovrebbero essere problemi, c'è gente che si parla un po' troppo ogni tanto, ma vabbè. C'è Sara che chiede, è importante pubblicare i propri disegni? Aspetta un attimo, sto avendo problemi con il cursore, mi è cambiato, non so che cos'è. Ok, penso che adesso sia ritornato tutto alla normalità, non ho capito che cosa è successo, però non fa niente. Un momento esplosione proprio, casuale. No, mi è diventato, no davvero, vabbè adesso non c'è quella cosa della condivisione e mi è ritornato il cursore, prima avevo tipo una specie di evidenziatore, non lo so. Vabbè, ok, scusami, dicevi? Succedono cose misteriose. Cose mistiche. Sara chiedeva se è importante pubblicare i propri disegni. Inteso pubblicare sui social o pubblicazioni? Ah, ok, secondo me è molto importante, soprattutto nel nostro, diciamo, nella nostra epoca, perché credo che siano una grande, secondo me i social sono importanti perché ti danno delle opportunità che magari altrimenti non potresti avere, nel senso che, a parte il fatto che puoi avere molti feedback da persone che possono dirti magari cose alle quali tu non hai fatto caso e possono, diciamo, comunque spingerti a migliorare. Anche se magari ti apri a commenti anche poco gradevoli a volte, ma anche se qualcuno ti fa una critica tipo, oh, i tuoi personaggi sembrano tutti uguali, a male parole, però se ci pensi su, dici, forse potrebbe avere ragione. Ah, vabbè, sì, quello sì, diciamo che c'è modo in modo di fare, a volte ci sono persone che non sanno come esprimersi e, vabbè, a parte questi casi estremi, diciamo che in generale sono cose, diciamo, è positivo avere dei feedback, a meno che non sia una persona super permalosa, allora in quel caso consiglio di non postare perché, e no, perché inevitabilmente quando ti metti in gioco su internet ci sarà sempre qualcuno che ti dirà l'opinione e non sempre l'opinione degli altri è quello che noi vogliamo sentirci dire, cioè non è che se uno mette un disegno su internet tutti quanti ti diranno, ah, che bello, è fantastico, magari anche, magari ce n'è una persona che può rendersi conto di un dettaglio, qualcosa, insomma, non, secondo me non tutti sono propensi a questa cosa. Non tutti sono buoni, però neanche tutti sono cattivi, insomma, come base. No, assolutamente, anzi, credo che la maggior parte delle persone siano di orientamento buono, però ci sono anche quelli, quelli, diciamo, tra virgolette cattivi che, però sono pochi, pochi. Sai, io dico così perché sappiamo che Sara è abbastanza piccolina, non è ancora un'adulta, quindi, sì, da una parte è buono mettere i propri disegni online, però ci vuole anche la responsabilità di saper prendere il bello e il cattivo tempo, ecco. Sì, sì, però come dicevi tu, io sono... Non c'è fretta di cominciare, Sara. Quanti anni hai, Sara? Dieci anni? Ah, quattro anni, scusa. Quattro anni? Vabbè, dai, tra... vabbè, oddio, come ti senti? Comunque, ecco, fai con calma, prenditi i tuoi tempi, internet è un posto molto vasto, ci sono sia persone gentili, sia persone meno gentili e bisogna starci attenti. Sì, vabbè, a proposito di hater, no? A proposito di hater, te hai mai avuto questo tipo di esperienza? Perché comunque c'hai un grandissimo pubblico per essere un'artista italiana, quindi, appunto, mi incuriosisce un po' sentire la tua esperienza. Se ci puoi dire qualcosa. Allora, in realtà, sì, alcuni... Penso che a un certo punto diventa inevitabile, come dicevo prima, quando sei su internet sai che la gente può dire qualsiasi cosa, quindi... Poi, specialmente quando le persone sono dietro uno schermo, insomma, non si fanno problemi magari a dire delle cose che il vivo non avrebbero mai il coraggio di dire. E sì, mi è capitato più volte anche di avere commenti poco carini su varie cose che ho pubblicato, diciamo, a volte ci sono anche persone che magari basta che se ne scateni uno di commento e arrivano tutti gli hater che magari non hanno mai avuto il coraggio di dire la propria, che si accodano a quello, quindi succede proprio che devi bloccare i commenti. Un momento l'altro, il commento, il commento del cavolo, cioè tipo 240 mi piace, sei lì che ci fanno come escono tutti questi, perché mi seguite se mi ovviate. E blocco tutti quando succedono queste cose. Ecco, la cosa da fare in quei momenti è bloccare, perché non è che puoi stare lì a perdere tempo e a rispondere ai commenti degli hater, cioè devi usare quel tempo per disegnare. Quindi, prendi e blocchi tutti. Mi è capitato diverse volte. A volte non gli fai un favore, perché levi quello che gli dà tanto, glielo levi dal feed, così non hanno più problemi. Non ti triggeri più. Se non sono capace a bloccarti loro, allora li blocchi te. Ma sì, c'è gente che critica, ad esempio, per esempio io il fatto che molto spesso i miei disegni sembrano, anche quando disegno personaggi che non sono bambini, bambine, a volte possono sembrarlo, perché comunque tendo a fare delle proporzioni, a usare delle proporzioni che magari danno l'impressione appunto che siano bambini, ecco. C'è un certo tipo di stile che con il nasino piccolino, gli occhi grandi, le proporzioni del corpo, tendono a sembrare tutti giovani, sì. Sì, e quindi a volte mi hanno detto cose brutte, dicendo che io, vabbè, insomma, non scendo nei dettagli, comunque ci sono inventate cose, veramente, proprio dal nulla, non ho cominciato a segnalarmi il profilo, così dal niente. Segnalato il profilo, proprio? Sì, vabbè, a volte mi arrivano segnalazioni, più che altro su Facebook mi arrivavano, su disegni che secondo loro io stavo violando le leggi sui minori, non lo so, perché non erano, non lo so, veramente, secondo me c'è gente che si diverte. Oppure ci sono persone che fanno, eh, da adesso in poi i bambini non potranno più aprire il tuo profilo, e io rimango, dico, a parte che su Instagram ti ci puoi iscrivere dai tredici anni in su, quindi non capisco quali bambini dovrebbero aprire il mio profilo. Bambini? Di quali bambini parli? Non lo so, ma poi vabbè, veramente, cioè vedo gente pubblicare delle cose assurde, nessuno dice niente, c'è gente che si inventa, purtroppo la gente avrà sempre qualcosa da dire, quindi... Niente, prima ti ci abitui, meglio è, alla fine basta bloccare un po' di persone, diciamo che fa parte dell'esperienza di internet, quindi non bisogna preoccuparsi più di tanto, ecco, capiterà a tutti di trovare una persona a cui non stiamo simpatici. Eccomi. Dicevo, c'è sempre qualcuno a cui non stai simpatico? Ah, c'era una domanda che mi ero... Infatti, ci sarà sempre. C'era prima una domanda, ti chiedevano da quanto tempo disegni, e io aggiungo, non accetto le risposte da quando ero capace di tenere una matita in mano, eccetera. Voglio sapere da quando hai cominciato a studiare. Quando andavo alla Siria. No, non è vero. No, vabbè, allora... Sì, in effetti sono due cose diverse da quando disegni e da quando hai iniziato a disegnare seriamente, perché disegno, chiaro che disegno da piccola, ovvio, tutti i bambini disegnano, non è che sono stata la prima bambina a disegnare all'asilo. È chiaro che ho sempre avuto questa cosa che mi piaceva, mi appassionava. Mi ricordo quando andavo all'elementario facevo sempre fumetti. Vabbè, penso come tutti i fumettisti. Quindi niente di nuovo, andiamo, vado avanti direttamente quando ho iniziato a fare cose sul serio. Allora, quando andavo alle scuole superiori ho iniziato a scoprire, ho scoperto che i cartoni animati che vedevo in tv erano tratti da manga. Non sapevo neanche che esistessero, in realtà l'ho scoperto grazie a internet, perché appunto alle scuole superiori ho avuto per la prima volta la connessione a internet. Sì, in terza media, prima superiore, insomma, ho avuto la connessione a internet. Visti che connessione a internet. Sì, prima non era come oggi che nasci con il tablet in mano. Che nasci con l'iPhone, mamma mia. Che nasci con la Sinti, che prima nascevi con la Mati. Non hanno idea. Vero, sì, c'era in carta, c'era Disney magico artista, non c'era internet. E quindi quando ho avuto internet ho scoperto che esistevano i manga e ho scoperto che esistevano persone che quindi disegnavano le storie che io vedevo in tv. Perché inizialmente io non è che sapevo benissimo questa cosa, infatti ero convinta che magari partissero dai libri, insomma, facessero adattamenti. Allora io tutta convinta che scrivevo storie e dicevo, un giorno la mia storia diventerà un cartone animato perché la devo proporre qua, questa, quella, l'altra. Convintissima io. Ho scoperto questa cosa dei manga e in realtà io andavo al liceo socio-psicopedagogico, che non c'entra assolutamente niente col disegno. Assolutamente niente. No, niente proprio. E io mi ricordo che tipo, volevo, avevo pensato di cambiare, di andare all'artistico, di fare. Allora mi ricordo che all'epoca andava molto di moda Yahoo, il sito quello dove si facevano le domande, che non c'erano tutti questi social che ci sono adesso. E allora tipo io scrissi, ma se io da grande voglio fare i manga, come dovrei fare? Mi dovrei iscrivere a un liceo artistico? Come posso fare? E questi che mi rispondevano, eh ma vedi che in Italia non si può fare, non ti preoccupare, sarà solamente una cosa passeggera perché adesso sei piccola e qualsiasi cosa che vedi la vuoi fare. Vedi che se cambi scuola te ne ventirai perché non è quello che tu vuoi fare davvero. Io non credo però ok, comunque alla fine non ho cambiato scuola, vabbè non per quello ma perché alla fine mi trovavo bene nella scuola che stavo facendo perché comunque erano cose che mi interessavano e mi piacciono tuttora. Infatti ora come ora io studio scienze della formazione primaria all'università, quindi ancora non c'entra niente con quello che faccio come fumetti. Però insomma ho iniziato proprio ad avvicinarmi da sola al mondo del manga. Con i pochi tutorial che c'erano, forse anche su YouTube. Ti posso dire che io ho fatto l'artistico e anche io al mondo dei manga mi ci sono dovuta avvicinare tutta da sola perché a scuola non c'era, anzi, anzi, quando i professori scoprivano che disegnavo manga, allora poi dopo qualsiasi dipinto che gli portassi, qualsiasi disegno della modella dal vero, qualsiasi collo di bottiglia che mi facevano disegnare, Emma l'hai manghizzato. Oppure Emma è troppo Candy Candy, ma dove è una bottiglia? Vero! Sì, Candy Candy e Lady Oscar sono il cavallo di battaglia di tutti quelli che non sanno niente di manga e vedono disegnato un manga e fanno, no, ma quello è Candy Candy e Lady Oscar. È un Pikachu. Un Pikachu. Quindi insomma non ti sei persa molto secondo me. Beh, me lo dicono in molti, eh, non sei la prima che me lo dice che ha fatto l'artistico e che si è trovata male da questo punto di vista, ovvero i manga fanno schifo, devi disegnare diversamente. Purtroppo. Io addirittura, io, vabbè, non facevo arte perché avevo, facevo storie dell'arte e c'era il mio professore che tra l'altro era lo stesso professore di arte che avevo alle scuole medie dove invece si faceva disegno, no? Quindi quando poi andai alle superiore e c'era sempre lui, lui comunque sapeva bene o male, si ricordava qualcosa di me che disegnavo in stile cartone animato e poi mi ricorda che erano manga dopo. E allora lui quando vedeva i miei disegni poi mi diceva tutto dispiaciuto, ma perché ti limiti a questo? E io tipo, in che senso? Ma perché? Cioè si dispiaceva, capito, come se io mi stessi perdendo qualcosa di importante nella vita, come se il manga non fosse abbastanza. Secondo me viene visto ancora come un gioco, una cosa per bambini, da tanti professori, la cosa mi rattrista molto. Sì, ancora c'è tanta cattiva pubblicità, completamente gratuita, perché poi nessuno obbliga nessuno a guardare gli anime o a disegnare manga. Però tutti hanno da obbligarti a non guardare anima, a non disegnare manga. E c'è questa cosa che è per bambini, non so perché. Anche Miria dice, ti stai sprecando, mi disse. Con un professore. E anche i miei professori gli dicevano esattamente le stesse cose, solo che adesso ogni volta che li vedo proprio bongolo fortissimo. Una volta beccai il mio professore di disegno tecnico, mentre stavo venendo intervistata da Sereno Variabile proprio per i miei disegni. No, è lui tipo, oh sai ho sempre caduto in te Caterina cara, no? No, ma infatti alcuni tipo fanno finta, fanno finta, no? Oh ma che bella cosa, che bello che hai trovato la tua strada. Sì, non grazie a te. Vabbè, quelli purtroppo più forti di loro secondo me, che ormai la generazione è cresciuta in quel modo. Sì, infatti, alla fine sono vecchi, non ci possiamo fare niente, ok, boomer e via. Esatto, ma non lo dico con cattivella, secondo me è proprio così forte. Lux che fuori dal coro dice, io invece sono stata incoraggiata a continuare da un professore all'università, però di chimica. Ecco, vedi che magari, secondo me, quel ghiatte sono, partono già con i, come si dice, con gli stereotipi, secondo me. Magari a loro volta hanno avuto stereotipi, tutta una cosa che si ripete. Sì, infatti. Vabbè, poi avevo altri professori che invece, vabbè, c'era la mia professoressa di musica che invece era molto contenta di questa cosa che mi piacevano i manga e tutto quanto. Una volta facemmo un esercizio dove dovevamo, cioè non un esercizio, era più che altro un compito da svolgere, dove dovevamo scegliere una canzone e portarla a scuola, farla ascoltare a tutti e spiegarla. Allora, io siccome ero proprio in fissa con i vocaloid e tutto quanto, non potevano scegliere una canzone di vocaloid, quindi portai, mi sa, Cantarella, mi sembra, tipo la mia canzone preferita. E la portai in questa classe dove, appunto, non è che ci fosse tutta sta cultura manga, insomma, non esista cosa di questi che non solo cantavano in giapponese, ma con una voce robotica e nessuno capiva niente. Però alla professoressa era piaciuta talmente tanto che mi mise un bel voto, mi sa che mi mise proprio il massimo, adesso non ricordo, comunque mi mise un voto molto alto, perché era una cosa che lei non aveva mai sentito prima, insomma, era molto contenta di aver scoperto una cosa nuova, infatti lei poi, adesso siamo amiche su Facebook, e vedo che ogni volta che posto qualche cosa le mette sempre mi piace, insomma, si vede che mi supporta ancora. Lena, esiste, non era di arte. Non era di arte. Non era di arte. Non era di arte con i professori, che meraviglia. Sì, ma non era di arte, però. Era quello l'inghippo. Sì, secondo me sarà quello l'inghippo per sempre. Non le persone in generazione. Tipo l'unica, una delle poche professoresse che mi, insomma, che accettava il fatto che disegnassi era la professoressa di italiano, appunto, e mi lasciava finire le verifiche prima e così potevo disegnare, nel senso che quando davo la verifica prima mi lasciava disegnare cose così. Ah, ecco, vabbè, sempre non di arte comunque. No, in realtà ho avuto anche un professore di arte che ha creduto in me, è stato il mio professore di anatomia, bravissimo, però ovviamente è stato il primo ad andarsene dalla scuola. Insomma, che tristezza. Vabbè, purtroppo è sempre così. Sara dice, anche a me la prof di italiano mi ha pure iscritto a un concorso di fumetto, che bello. Bello. Poi ora infatti cominciano a esserci, cominciano a esserci anche professori che accettano un po' di più, accettano un po' di più le cose nuove. Si spera che, insomma, si continui, si continui ad accettare sempre di più tutto ciò che è nuovo, invece che avere sempre paura dei bambocci cinesi. I cartoni cinesi. Tra l'altro ora vabbè è saltata perché, vabbè, non si viaggia più, però dovevamo avere una gita scolastica dove sarebbero venuti proprio a Lucca Manga School a fare un corsettino di disegno durante la gita scolastica, cioè fantastico. Che bello, ma i ragazzi della scuola tua dove andavi alle superiore? No, dall'Emilia. Ah, capito. Ah, ok, un'altra scuola, non c'entra niente. Sì, proprio un'altra scuola. Ah, che bello, vabbè, peccato. Il mio liceo, il mio liceo, nonostante io sia, tipo, non voglio dire l'unica che ha fatto qualcosa da quel liceo, ma non ne ho sentiti altri. Non dico di non essere Batman, ma nessuno ha visto me e Batman nella stessa stanza insieme, no? In questo modo qui. Comunque, non ho, appunto, dal mio liceo non si è sentito granché per ora. Abbiamo provato magari a organizzare workshop forse, sì, 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 e poi dopo non rispondono alle mail. Bello. Bello. Hanno ancora un po' di, sono ancora arrabbiati che tu ce l'hai fatta e nonostante loro non credessero. Mi sceglierò di ancora. Una volta. Non l'accetteremo mai. Un workshop l'ho fatto, una volta, tipo, mezzo workshop, solo che mi hanno levato, mi hanno levato mezz'ora di tempo, dovevo fare un'ora, mi hanno levato mezz'ora di tempo perché era tipo, c'erano tipo tre persone che dovevano fare, dovevano parlare di tre argomenti diversi. Quelli prima ci hanno messo più tempo, a me mi hanno messo per ultima, i ragazzi che mi hanno, ma come, ma non puoi fare un'ora intera? E i ragazzi suonano la campanella. Peccato. L'hanno fatto apposta, secondo me. Vabbè. No, che tristezza. Ok, ora mi sono veramente proprio persa nei discorsi. Torniamo a parlare di disegno. È vero. No, vabbè, tutto questo era perché... Ma forse com'è che ti sei avvicinata al disegno, era una domanda originaria. Da quanto tempo disegni, in effetti, è vero. Quando è che hai cominciato a disegnare, allora? Ah, sì, giusto. Vabbè, alle superiori ho scoperto i manga, ho iniziato, però poi, più seriamente, quando ho finito le superiori, quindi nel 2014, perché ho avuto più tempo libero, e poi ho iniziato a vedere che esistevano effettivamente dei manga fatti dagli italiani, pubblicati dagli italiani e venduti in Italia. Allora, ok, mi hanno sempre mentito tutti, si può fare questa cosa, la voglio fare, e da lì ho iniziato e non ho più smesso, perché il mio obiettivo era quello appunto di pubblicare un fumetto e quindi ho iniziato a impegnarmi, sempre a studiarlo da sola, perché alla fine guardavo molto, ecco, osservando, imparando dagli altri. Ho, ho mosso i miei primissimi passi. Poi c'è stata anche Maria, e lei è stata la mia editor due anni fa e quindi anche lei mi ha insegnato moltissime cose tecniche che magari io non sapevo proprio perché appunto, non avendo mai studiato in una scuola o comunque con degli insegnanti, diciamo che hai più difficoltà a fare determinate cose, perché magari ci devi arrivare da sola, lo devi scoprire da sola e quindi, insomma, lei mi ha insegnato anche molte cose, quindi ho approfondito molto grazie a lei, sì. Non so se è che ci sta guardando adesso, la vedo tra i partecipanti, mi saluto a Wish, che è sempre, che è sempre con noi. Eccola che vi sto guardando, ciao! Ciao! Sì, 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 lei mi ha insegnato molto. Appunto, te ce l'hai fatta alla fine a fare un fumetto, parlaci anche della tua pubblicazione. Sì, alla fine ce l'ho fatta perché, cioè, era quello che volevo fare, quindi mi ero messa in testa quella cosa e chiaramente non potevo smettere finché non ci riuscivo. Per cui ho, inizialmente, vabbè, questa cosa penso che è importante dirla anche per tutti quelli che hanno intenzione di fare questo lavoro, che inizialmente non è facile perché ho avuto tantissime porte chiuse in faccia e tantissime persone che appunto non hanno creduto in me. O comunque anche giustamente perché non è detto che tu vuoi fare un manga, prepari le tue tavole, le mandi al primo editore che capita, l'editore ti deve dire di sì, altrimenti tu non vali niente, altrimenti l'editore è stupido e tutto quanto. Non ha la prima o niente. Esatto, perché è chiaro, io vabbè, ovviamente le prime cose che avevo preparato erano, insomma, quelle che erano, perché appunto essendo una prima, un primo tentativo. Però è sempre importante mettersi in gioco perché poi, magari grazie a quelle, hai anche a volte la fortuna che un editore ti possa dire guarda, non te la possiamo prendere perché non funziona sulla trama, non funziona sulla sceneggiatura, non funzionano le inquadrature, non funzionano lo sfondo, l'anatomia, insomma, ti puoi anche indirizzare quando sei fortunato perché non tutti ti rispondono. Capita anche gente che risponde solo se è interessato, ma purtroppo il mercato è quello, non è che, insomma, non è che puoi biasimarli più di tanto, ecco. Quindi inizialmente... Come dico sempre, anche gli editori devono portare il pane a casa. Esatto, e quindi capita molto spesso che non abbiano proprio la possibilità di star lì a rispondere ad ogni mail, direi guarda il tuo fumetto non ci piace perché, quindi insomma, quando capita in realtà è una cosa buona perché ti, insomma, ti può essere molto utile per capire dove devi andare a correggere il tiro, perché, insomma, specialmente appunto se non hai studiato da nessuna parte e quindi fai le cose da sola, ti serve sapere, avere il parere di qualcuno che ne capisce, altrimenti. Qui, diciamo, inizialmente io proprio... Vabbè, un qualche editore, insomma, mi ero proposta, però alcuni non mi avevano risposto, altri mi hanno detto guarda che qua non funziona e tutto quanto. E poi alla fine sono riuscita a pubblicare con la caseritrice Manga Senpai, il mio primissimo fumetto stile manga, diciamo, però... Vabbè, è sempre manga, sì, però è a colori. Non so come lo definiresti tu se è sempre manga, manga a colori. Manga a colori, manga a colori si può dire, dai. Ok, no, perché io, diciamo, non mi pongo il problema perché semplicemente credo che ognuno debba segnare come si sente, ecco, quindi a volte il problema... Esatto, l'etichetta è proprio un incubo perché poi devi stare attenta con chi parli che magari ti dicono... Tipo a volte dei ragazzini mi fanno tipo, eh ma il tu non è un vero manga perché non ci sono i retini e non ci sono gli inchiostri. Io dico, ok, è vero che non è inchiostrato e non è retinato, però non è che per forza... Cioè esistono anche manga che sono... Poi correggimi se sbaglio, ma esistono manga che sono fatti a colori, no? Sì, sì, poi appunto, cioè, non credo che chi te l'ha detto sia un'autorità nel mondo del fumetto Ma no, dei bambini! Per definire cosa è un manga e cosa no. No, però... Anche perché la parola manga nasce dagli ukiyo e è una cosa totalmente diversa. Cioè? Nel senso che viene dai dipinti stile Okusai, La Grande Onda, viene da molto lontano la parola manga, veniva usata appunto anche per definire le immagini sequenziali fatte a pennello, che è del tutto diverso poi da quello che è definito per diventare il manga e quello che consideriamo noi manga adesso. Ah, ecco, quindi comunque slegato dal concetto di fumetto in sé per sé, giusto? Sì, poi appunto in Giappone il manga è fumetto. Siamo noi che ci fissiamo su il manga è giapponese, il fumetto è italiano, il francese è il francese, cioè il bandesine è il francese, cioè è fumetto. Esatto. Sono immagini, ci sono le parole, è un fumetto. Esatto, vabbè, questo è già difficile per chi fa il manga inchiostrato retinato, pensa per me che lo facevo appunto, che lo faccio a colori e quindi è ancora peggio far capire che cosa sto facendo. Quindi. C'è Jacopo che chiede, lui è fissato, chiede se si legge all'orientale il tuo manga. Scusa, non ho capito, non si sentiva bene? Sì, il tuo manga si legge all'orientale o all'occidentale? Ah, allora, no, 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 si legge all'occidentale perché, insomma, conosco persone italiane che disegnano all'orientale, però io personalmente, vivendo in Italia, essendo italiana e pubblicando per italiani, faccio l'orientale occidentale, eh sì. Sara invece chiede come si chiama il tuo manga. Il mio manga si chiama Masquerade Carousel, per il momento sono usciti i primi due volumi ed è una storia in corso. Sto lavorando. Sto lavorando al terzo? Sì, 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 ci sto lavorando, ci sto lavorando. Dove lo possiamo trovare? C'è nello shop di Manga Senpai, giusto? Credo che, non lo so, sicuramente dovrebbe esserci su Amazon, non so se c'è sullo shop di Manga Senpai, bisognerebbe guardare, non sono sicura, però su Amazon ci dovrebbe essere tranquillamente. Dalla regia mi dicono che c'è. Ah, ok, a posto, perfetto, allora. C'è Sara che dice, chi fa Manga a colori secondo me dimostra ancora di più il suo talento. Grazie. Beh, un elemento in più è bello, perché poi anche col colore riesci a dare un'atmosfera in più. Sì, diciamo che io amo particolarmente il colore, quindi mi piace molto di più, ecco. Però non disdegno la colorazione in bianco e nero, infatti, insomma, ci sto sperimentando cose, quindi un po' entrambe, ecco. Mi piacciono entrambe le cose, in realtà. Abbiamo una domanda molto filosofica da parte di Ludovica che chiede se esiste un momento giusto per proporsi ad un editore. Io se dovessi rispondere personalmente direi quando sei pronta a prendere una batosta. Sicuramente quello. Vabbè, secondo me esiste il momento giusto, ma non al 100%, nel senso che non sarà mai il momento giusto, perché si può sempre migliorare. Chiaramente se hai delle tavole, mentre vai avanti e poi torni indietro e te le riguardi, ti accorgerai che non ti piacciono più. Quindi, insomma, secondo me il momento giusto è, beh sì, un po' come hai detto tu, quando sei pronto ad avere un, cioè, a metterti in gioco più che altro. Ecco, quando sei pronto a far vedere qual è il tuo lavoro e sei pronto anche ad accettare quello che gli altri vanno da dirti, perché appunto bisogna essere pronti anche a quello. Non devi aver paura. Non c'è da aver paura, alla fine l'opinione di un editore è sempre preziosa, a qualsiasi livello tu sia. Certo, appunto, se magari c'è chi ha tanta fretta, che vuole pubblicare il prima possibile, ma ecco, io consiglio sempre di darsi il tempo di farle le cose, darsi il tempo di imparare. Perché si vedono tanti autori in Giappone, pubblica a 14 anni, pubblica a 16 anni, mette pensiero, ma siamo in Italia, quindi non c'è bisogno di pensiero. Vabbè, sì, no, vabbè, sì, infatti, comunque è vero, vedo queste cose di persone che pubblicano a 15 anni, non so come fanno, sono bravissime, tipo io, cosa hai 15 anni, o perché disegni meglio di tutti? Vabbè, sono asiatici. Allora sono maledetti. Vabbè, non importa quanto sarai bravo, sarai sempre un asiatico più giovane, migliore, che saprà fare le cose meglio, non so perché sono bravissimi. Vabbè. Poi, onestamente, secondo me non è neanche giusto entrare nel mondo del lavoro troppo presto, bisogna avere il tempo di avere infanzia, adolescenza, di imparare un pochino a gestire la vita. Sì, sicuramente. Prima di entrare nel mondo del lavoro, ha una grossa responsabilità. Beh, anche perché... Scusa, finisci? No, dicevo, mi ricordo di queste cose e a volte le leggevo anche nei manga, quando ci sono quegli spazi, proprio i manga giapponesi, perché quando ero piccola c'erano solo quelli, leggevo, c'erano tipo spazio all'autore e i film che facevano domande, c'era una che chiedeva, forse su un manga di Sailor Moon, no, forse Shugo Chara, chiedeva, ma come posso diventare anche una mangaka, come posso fare? E loro consigliavano sempre, comunque adesso vivi la tua infanzia e vivi la tua adolescenza, perché se non hai esperienza da raccontare, poi su che cosa baserai le tue storie in futuro, cioè raccogli quanto più esperienza possibile per poter poi raccontare le tue storie, quando sarai più grande, hai tutto il tempo, quindi sono d'accordo su questa cosa, c'è tempo. Ecco, anche qui mi trovi completamente d'accordo. C'è Ludovica che dice, la mia paura non è essere respinta, ma esserlo e non potermi più riproporre, funziona così o si è più o meno aperta ad una richiesta successiva? No, no, assolutamente, quando tu ti proponi, certo che ti puoi riproporre, altrimenti cosa fai? Ti proponi una volta e poi non puoi diventare mai più un fumettista, no, assolutamente. Anzi, magari, credo che molti editori apprezzino anche quando, dopo un po', certamente non è che ti riproponi una settimana dopo, perché in quel caso, forse io l'ho fatto qualche volta in posto, ma sì, mi proponevo, poi sistemavo le tavole, loro magari mi dicevano, eh, non va bene questa, io la sistemavo e la rimandavo la settimana dopo e magari non mi rispondevano, vabbè, vabbè, ci sta all'inizio che uno può, insomma, non è che nasciamo già con tutte le cose, con tutte le informazioni, ecco, quindi, insomma, si fanno sbagli stupidi e cose, però non succede niente, cioè ti puoi riproporre, al massimo non ti rispondono, ecco. Poi quando ti riproponi, non ti preoccupare che l'editore ha tutto l'interesse a pubblicare cose e a guadagnare, quindi se tu proponi una cosa e a loro non piace, poi dopo sei mesi, per esempio, e ti riproponi con un progetto che per loro è vendibile, loro, ti assicuro che non se ne fregheranno nulla del fatto che tu sei mesi prima hai proposto una cosa fatta magari, diciamo, non a livello della nuova, perché chiaramente loro tengono anche conto del miglioramento e tutto quanto, magari non si ricorda neanche che tu gli hai scritto prima e a loro interessa il prodotto vendibile, quindi se proponi un prodotto fatto bene, che può essere venduto, certamente non sarà la tua proposta di un anno prima che dirà, no, questa un anno fa ci ha proposto una cosa che non ci è piaciuta, anche se il suo prodotto ci potrebbe far vendere, adesso la rifiutiamo, no, puoi stare tranquilla. L'unica maniera per non farsi, cioè per finire in lista nera è appunto magari ripresentarsi settimana dopo settimana sempre con gli stessi errori, sempre con più o meno lo stesso progetto, senza fare cambiamenti, a quel punto ti mandano nello spam e via proprio le tue mail. No, quello sicuro, però ecco, vabbè a quel livello no, 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 non ci ero arrivata. Non ci arriviamo a quel livello, cioè Wish, che appunto essendo editor anche lei lo sa, dice una persona tenace che si ripropone dopo un anno mostrando evidenti miglioramenti, fa sicuramente una certa impressione perché dà la sensazione di perseverante e di prendere le cose con serietà. Ecco sì, sono d'accordo, quello che sì, sono d'accordo con questo perché appunto come dicevo se uno vede che ti riproponi e sei migliorato vuol dire che c'è qualcosa, cioè hai veramente interesse a fare questo lavoro e quindi non ti scoraggi che magari una persona, che poi ci sono anche invece all'opposto le persone che magari prendono a male un rifiuto e quindi pensano che automaticamente tutto il mondo è un malvagio, sì, e non capiscono niente, questi editori scemi, li farò vedere io. Lì diventa diciamo una situazione un po' imbarazzante perché poi ci si impunta, invece bisogna essere aperti perché non è che l'editore vuole il male dell'autore, anzi, cioè se vende l'autore guadagna anche l'editore. Mi pare giusto. E saremmo, noi la nostra oretta l'avremmo fatta, l'avremmo fatta. Quindi se vogliamo possiamo salutarci su queste parole molto rincuranti. Ok, va bene, va bene. E possiamo vederci alla prossima live, poi vediamo anche quando rifarne una anche con te che non so te mai ho messo in effettiva. E poi c'è sicuramente ancora un sacco di cose da dire. Sì, sì, un sacco di aneddoti molto intelligenti sulle mie prime proposte di fumetti. Sì, c'è sempre da raccontare. Vogliamo sentire tutte, quindi sì, ci risarà un altro live prima o poi anche con Rosen. Certo, certo, mi fa molto piacere. Grazie comunque di avermi invitata. Ti ringraziamo a te per il tuo tempo, per aver condiviso i tuoi aneddoti. Sempre bello sentire le varie esperienze dei vari autori. Ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti.